dei loro problemi, abbiamo parlato delle venite, delle feste, di ricordo siderico e di scuola, dovevamo parlare dei problemi degli italiani e del certo medio, questo è quello che noi abbiamo fatto in tutta questa campagna elettorale, non so se ci siamo riusciti ma abbiamo la coscienza di averlo fatto con serenità, grazie di tutto.